Sostenibilità e imprese, un rapporto sempre più stretto, chiave per la ripresa e per lo sviluppo del paese. Perché diventare più sostenibili significa anche essere più competitivi, ma per farlo occorre compiere le scelte giuste. Le piccole e medie imprese, anche quelle del comparto commercio, stanno già facendo molto, perché l'attenzione, per esempio, al tema della CO2, al tema del packaging, al tema dell'attenzione della risorsa umana, quindi del lavoratore, o del come sono costruiti i beni e i servizi che vengono venduti, è già molto attenta in questo contesto piccolo e di solito familiare. Chiara Mio è docente all'Università Caffoscari di Venezia, prima donna in Italia a guidare una banca commerciale e presidente di Credi Agricol Friuladria. Per la terza ha pubblicato il volume L'Azienda Sostenibile, presentato a Palazzo Castiglioni a Milano nel corso del primo appuntamento del nuovo ciclo di libri in veranda, l'iniziativa di impresa cultura Milano di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, che ha l'obiettivo di avviare una riflessione sui temi di interesse per le imprese e contemporaneamente valorizzare il lavoro delle librerie sul territorio. A introdurre l'evento Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Italia, a dialogare con l'autrice Chiara Mio, l'esperto di sostenibilità Giovanni Moratti della libreria Colibri e l'imprenditrice e start-up per Laura Venturini. Essere un'azienda sostenibile non è semplice ma possibile, secondo Chiara Mio, resta però importante e centrale il ruolo delle istituzioni. Nel 2015 sono stati lanciati gli SDG al Palazzo delle Nazioni Unite da un'iniziativa più privata che pubblica, ovviamente anche con la collaborazione del pubblico. Le aziende private sono un po' più avanti, però senza il contesto pubblico e quindi la grande regia della pubblica amministrazione non si va da nessuna parte. Quindi è fondamentale, quanto prima, avere un'accelerazione da questo punto di vista. Quello che sta facendo l'Europa e l'Italia col PNRR lascia grandi segni di speranza che si vada verso questa convergenza e questo rinforzo molto opportuno.